Riciclone sì, ma sommerso dai rifiuti. Questo è il paradosso denunciato dal sindaco di San Ferdinando di Puglia Michele Lamacchia in una conferenza stampa in cui ha puntato il dito contro la SIA, azienda partecipata che gestisce la raccolta dei rifiuti nei comuni del bacino Foggia 4. La società igiene ambientale, ha affermato il primo cittadino, sta ricattando l'amministrazione comunale per indurla a firmare un aumento di 750 mila euro ai costi stabiliti dal contratto stipulato nel 2012. Il Comune non si è rifiutato di riformulare il contratto ma semplicemente non vuole cedere a nessun ricatto accettando delle condizioni imposte senza tener conto dei parametri previsti dalla legge. A San Ferdinando, nonostante ci sia un livello di raccolta differenziata pari al 60%, c'è immondizia ovunque, inutile negarlo. Le zone colpite non sono soltanto quelle periferiche ma anche piazza della Costituzione e persino la gradinata della Chiesa Madre. Il nostro non è un contratto a prestazione ma un contratto di gestione che obbliga allo svolgimento costante dei propri impegni presi nel 2012, ha dichiarato la macchia. Intanto il sindaco ha scritto all'ANA che è alla procura di Foggia per denunciare l'interruzione di servizio ai ricatti subiti dall'amministrazione da parte della società igiene ambientale e da fonti interne al Comune sembrerebbe che i carabinieri del NOA nei giorni scorsi si siano recati a Palazzo di Città per acquisire della documentazione.